Sono due le figure chiave della gang del grimaldello bulgaro che emergono dagli sviluppi dell'inchiesta resi noti oggi dalla procura di Piacenza. La prima è quella di una donna dipendente di un negozio di compro oro in città. È l'unica incensurata degli otto arrestati ma secondo le accuse il suo ruolo era da consumata professionista del crimine visto che sfruttava il suo lavoro per fornire alla banda i dati e le informazioni dei clienti che andavano a impegnare i propri gioielli, carpendo spesso anche i segreti sulle loro abitazioni. Ma non è tutto, la donna aveva infatti progettato anche due furti ad altrettanti negozi della catena per cui lavorava uno a Piacenza e uno a Lodi. Il ricettatore principale poi era un ristoratore piacentino trovato in possesso di una grande quantità di beni. Anche egli non disdegnava affatto di carpire informazioni e girarle alla banda che stando a quanto emerso dalle indagini non rischiava per poco. I colpi erano infatti studiati per portare via oro e contanti puntando a grandi profitti grazie anche al fatto che la merce era piazzata già nel giro di poche ore. Il colonnello dei carabinieri Luca Pietranera e il capitano Massimo Barbaglia hanno rivelato come l'indagine sia partita da un furto in abitazione che fruttò oltre 200.000 euro. Il valore complessivo della merce rubata dalla gang è di centinaia di migliaia di euro. Tra le altre cose sono stati sequestrati 45 orologi di marca, 20 collane, 30 bracciali, 60 anelli, 30 paia di orecchini e 30 ciondoli, ovviamente tutto in oro. La banda aveva ruoli molto precisi. Preparato il colpo a metterlo a segno erano 3 o 4 persone che arrivavano su due vetture differenti. Due ladri entravano nelle case, gli altri facevano il palo. A Piacenza ha fatto così il suo debutto il Grimaldello Bulgaro, uno strumento finora sconosciuto nella nostra città che consente di aprire anche le porte blindate senza lasciare traccia. Non l'avevo mai visto, ne avevamo sentito parlare ovviamente di questo sistema di apertura delle serrature molto efficace che non lasciava tracce nel corso dei furti che allarmò in passato anche i fabbri italiani, nel senso che avevano trovato queste serrature aperte, non riuscivano a capire come erano state aperte. Ne avevamo sentito parlare e finalmente ne abbiamo recuperati due veri. Le intercettazioni telefoniche hanno poi rivelato anche particolari curiosi. Leggendo un articolo in cui le istituzioni piacentine promettevano un giro di vite contro la criminalità, due degli arrestati hanno commentato in Piacentino, non si può più lavorare in pace.